L'e-commerce per la farmacia può essere estremamente importante per allargare i limiti del mercato locale intercettando le nuove tendenze di acquisto e le nicchie di mercato, andando ad aumentare quindi il fatturato della farmacia e le possibilità commerciali della farmacia stessa di vendere i propri prodotti. Il principale elemento critico in un e-commerce di una farmacia è la visibilità, quindi portare clienti all'interno del sito internet, perché non basta fare un sito ma abbiamo bisogno di portare sempre nuovi visitatori a visitarlo e ad acquistare sul sito e-commerce. Tutte le farmacie sono idonee a fare e-commerce ma non tutte sono uguali, per questo andiamo a identificare per ogni singola farmacia le principali aree di eccellenza per andarla a valorizzare anche online all'interno dell'e-commerce e delle vendite sul mercato nazionale.